La Germania mette al bando lo Stato Islamico, vietati il reclutamento di combattenti, l'uso dei simboli dell'organizzazione, il sostegno e la promozione con qualsiasi mezzo, dalle manifestazioni e social media, ha annunciato il Ministro dell'Interno. Berlino è estremamente preoccupata, visto che circa 400 tedeschi sono partiti in Iraq e in Siria per unirsi agli islamisti. L'organizzazione terroristica Stato Islamico è una minaccia, anche per la sicurezza pubblica della Germania. Dobbiamo impedire agli estremisti islamici di portare la jihad nelle nostre città. Si stima che il movimento salafita in Germania conti circa 5.000 membri. Di recente ha suscitato allarme la polizia della sharia Wuppertal. Così si faceva chiamare un gruppo che patugliava la città di notte, tentando di convincere le donne a portare il velo e i giovani a non bere e a non frequentare discoteche.